Ciao ragazzi! Lui è Gioele e io sono Lorenzo e questo è The Ragazz Talk! Senza sigla stavolta perché non è più Natale? Non è più Natale e volevo aggiungere buon anno e ciao ragazzi di città laggiù! Ah Cipigna è vero, buon anno! Buon anno, buon anno a tutti! Oggi siamo qui con Milo Cotogno, l'incomparabile ragazzi! Dette così Milo Cotogno è strano perché Milo Cotogno soffiato è... Esatto, un po' fuori topic! E oggi siamo qua a farci una chiacchierata come al solito, ovviamente determinati temi non potranno non essere non detti perché... Eh appunto, non possiamo parlare di certo... Vogliamo parlare di gossip? No! Siamo una musata? Quello che volete insomma, tanto alla fine si finirà sicuramente a parlare di mele in qualche modo! Esatto! Ma a proposito di mele! Cosa hai fatto nella tua vita? Raccontaci, non lo sappiamo! Ho mangiato tante mele devo dire! Ah pensa se! No, ho fatto tante cose, vorrei bere, posso farlo, scusatemi! Certo! Perché devo dire, è un'intervista strana perché mi sento a destra e a sinistra circondato e davanti c'ho i nostri... Chi ci vede, insomma i telespettatori, io sono abituato a dire telespettatori, però così è... Bevo! Cheers! Allora, io sono a vostra disposizione, sono nelle vostre mani e sono pronto ad aprirmi come un libro! Io direi di parlare di mele, per iniziare! Allora, innanzitutto vi chiedo, voi conoscete la melevisione? Eh certo! La mia infanzia! Per me è stata la mia infanzia! Sempre e comunque in tv vedevo! Beh, melevisione... Sono stato fortunato ragazzi, sono stato fortunato perché sono entrato da piccolo, perché avevo 21 anni quando ho fatto il provino, in un programma che era visto da tanti bambini! Perché c'era già prima che entrasti qui! Certo, come no? C'era la... Allora, melevisione è nata nel 99! Nel 99? Quindi facciamo un po' i conti, voi nel 99 manco eravate nati! No, neanche pensieri di mia madre! Esatto, neanche io penso! E già esisteva la melevisione per i bambini, ex bambini che oggi hanno 25-30 anni anche, perché melevisione si guardava fino a 10-12 anni, eh! All'epoca! Io sono entrato nel gennaio del 2004! Quanti anni avevate voi? Un anno! Gennaio? Nemmeno uno! Io lo stavo per fare un anno, perché sono in febbraio! Quattro mesi! E io sono entrato nel Fantabosco, ne avevo giusto 22! 22, sì, 22! 22! Sono entrato da piccolissimo dentro questo mondo fantastico e ci sono rimasto... Ancora sono lì, in qualche modo! Sei ancora dentro! Sono ancora a folletto, ormai resterò a folletto per tutta la vita, però vi assicuro che... Un tuo incubo ricorrente è trovarti dentro la melevisione e non riuscire ad uscire più! Esatto, ormai ci sono dentro, ormai! No, no, vabbè, ora scherzi a parte... È stata veramente l'esperienza, a parte più lunga, perché veramente da quando ho cominciato la mia carriera, che sono entrato in melevisione quasi subito, è stata quella più fortunata, mi ha portato poi tutto il resto, tutto quello che ho fatto, insomma poi faccio l'attore, quindi è un mestiere... Il bello di questo mestiere è che appunto tu puoi interpretare, insomma, vari ruoli e Milo Codogna, praticamente sono io, Lorenzo e Milo, ormai non c'è bisogno di interpretarlo più tanto, perché sono proprio io, insomma, ed è stato il personaggio che ho portato avanti per più tempo. Ma te ti saresti mai immaginato, perché prima ci hai raccontato che sin da piccolo volevi fare l'attore, no? Sì, esatto. Ti saresti mai immaginato di fare TV per bambini? No, 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 perché io sognavo da piccolo di fare l'attore, cioè il cinema, è sempre stato il mio sogno fare il cinema. Quindi un target più grande? No, ma in realtà non pensavo a un target, a me è sempre piaciuto raccontare, anche quando era a scuola, mi ricordo che imitavo i professori, mi piaceva essere al centro dell'attenzione e poter avere qualcosa da raccontare, da dire, quindi era quello, insomma, il mio focus, no? Quindi non è che pensavo a chi raccontare, fai l'attore, fai l'attore, insomma, interpreti un personaggio. Quindi sognavo il cinema, perché mi è sempre piaciuto immaginare di essere nel grande schermo, insomma, come si diceva una volta, il grande schermo, insomma, il cinema. Poi, vi dicevo prima, no? Si parlava di sogni, voi che siete giovani, avete l'età di quando io sognavo di voler fare l'attore, insomma, avete 19 anni e quando vivi un sogno ti immagini tutto un po' spoccato, perché pensi che vorresti fare quello, poi che ne sai quello che succede nella vita, no? Cominci a inseguire un sogno, poi magari la strada ti porta su delle altre piccole strade parallele, magari non conoscevi e ti piacciono anche di più. Io sono, ho realizzato un sogno che avevo sin da piccolo, cioè volevo fare l'attore e sono arrivato a fare l'attore, quindi, cioè, il massimo è quello che volevo fare. Quindi rifaresti tutto da capo. Rifare tutto da capo. E poi il caso mi ha portato ad essere un folletto televisivo e quindi avere un grande bocino d'utenza, perché, insomma, gli spettatori erano tanti a seguirci. Quanto era lo schermo, sai? Era altissimo, era altissimo. All'epoca avevamo più di 800.000 spettatori al giorno, che sono numeri molto alti, insomma, a livello di percentuale per essere una trasmissione che andava in onda alle 4 di pomeriggio, poi ha cambiato un po' di orari, ma circa alle 4 di pomeriggio facevamo tra il 10 e il 12 per cento, cioè, ci sono delle trasmissioni in prima serata che fanno di meno adesso, no? Perciò, all'epoca che c'erano sei canali, magari, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, i primi sei, non c'era ancora il digitale terrestre, gli ascolti erano ovviamente più alti, però, caspita, io sono entrato a 22 anni in una trasmissione che era vista tantissimo, quindi grande responsabilità a un'età piccola e anche con poca esperienza. Quindi io l'esperienza me la sono fatta sul campo. Ecco, prima hai studiato la recitazione. Sì, sì, io arrivavo da una scuola di musical, quindi dovrei dirti so ballare, ma non so ballare, dovrei dirti so cantare e qualcosina canto, sì, dai, mi piace cantare, mi è sempre piaciuto, anche perché una delle caratteristiche che volevano per il nuovo folletto che entrava al posto di Tonio Cartonio, che c'è stato dal 99 al 2004, è che il nuovo folletto dovesse sapere anche cantare bene. Quindi io arrivando dalla scuola di musical sapevo canticchiare, dai, perciò non mi piace dire so cantare, però insomma sono intonato, ecco, quello forse è già un fatto e quindi sì, dai. Ecco, un fan fact che in questo periodo, ti dicevo prima, ho riguardato le puntate, no? Ok. E mi sono resa conto di tutto il lavoro che c'era dietro e mi sono resa conto che a una certa vi mettevate a cantare, che io quando ero piccina non me ne rendevo conto. Bello, a una certa vi mettevate... Sì, sì, perché quando ero piccina per me era tutto normale e ora che l'ho riguardato ho detto, ah, quindi cantano quelle, non me lo ricordavo. Sì, diciamo che da piccoli si guarda in un modo, in un'avventura, no? Si immagina proprio un altro mondo, no? Che poi sì, è vero, è un altro mondo il fantabosco, però l'hai vista con occhi da attrice, no? Tu che vuoi diventare attrice è normale che la vedi in un altro modo da grande. Io ho appena fatto fare outing, non l'avevo mai detto. Non l'avevo mai detto, no? Va bene, va benissimo. Voglio fare l'attrice. Io appena vi ho incontrato vi ho detto quali sono i vostri sogni? Esatto. È la prima cosa che chiedo ai giovani come voi, perché mi piace, no? Capire dove volete arrivare. Insomma, tu sei cantante, tu sei attrice, per me siete questo, insomma siete quello che volete diventare. E quindi, niente, vedendolo con quegli occhi, la melevisione ti rendi conto, sì, che c'è un lavoro dietro enorme, c'è tra scenografie, costumi, trucchi, ma qualsiasi dettaglio di quello che vedevate c'era chi ci lavorava dietro. E anche noi, sì, dovevamo cantare una canzone perché nelle puntate di melevisione si sviluppavano sempre o con una manualità da costruire, da parte del folletto, solitamente, scusate ma arrivo dalla febbre australiana, questa è la parentesi, o c'era una canzone che serviva sia la canzone che la manualità per l'andamento della puntata. Nel senso, che so, Lupo Lucia aveva bisogno di una chiappa sogni e io costruivo la chiappa sogni perché con la chiappa sogni allora riusciva a fare delle cose. La canzone magari ti dava un suggerimento per fare qualcos'altro. Un insegnamento. Era un mix di diversi format. Esatto. Tipo io ci vedo anche un Art Attack dentro, capito? Sì. Beh, allora, Art Attack e melevisione sono andati in onda insieme, infatti con il buon Giovanni ci conosciamo tutti noi di melevisione con Giovanni. quindi se vuoi venire ci farebbe piacerissimo. Il buon, il grande Giovanni, persona assolutamente piacevole, ci siamo divertiti, siamo stati ospiti in più programmi insieme perché ovviamente lui rappresentava... Siete un po' i volti della nostra generazione. Beh, lui, lui, tanto, caspita, perché Art Attack è stato... C'era solo lui. Cioè, noi siamo un gruppo di attori che è... Però ti posso dire che, senza offendere nessuno nella melevisione, come si diceva prima, te sei il volto più riconosciuto. Anche perché non sei truccato. Esatto, sei te. No, diciamo che i Folletti, magari con Danilo, ovviamente per la prima generazione, diciamo, quelli che guardavano la prima versione e per Milo dopo avevamo la fortuna, sfortuna, insomma, di essere noi. Le facce erano le nostre, quindi... Anche altri personaggi non avevano un trucco molto marcato, mi viene in mente Fatalina, insomma, Paola si riconosce molto bene. Sì, sì, sì. Ma anche qualcun altro, insomma, principesso d'essa, che poi si è sposata e è diventata regina. Però sì, insomma, però Giovanni, Giovanni, cioè, era quel programma, cioè, era quel programma ed era un programma che io stesso guardavo pure da grande perché era righissimo, insomma, no? Ciao Giovanni. Ciao. Quante ore stavi per lavorare e immagino registrare le canzoni in studio perché le registravate in studio, ovviamente? Allora, noi registravamo una puntata al giorno e fai conto una giornata di registrazione, le registrazioni, l'orario tipico era, fai conto, 13, 20, però prima delle 13 c'era il trucco, quindi c'è chi arrivava alle 10, quindi faceva 10, 20, oppure avevano meno scene, quindi facevano, che so, 10, 16, dipende, dipende dal numero di scene che aveva un personaggio. Comunque lo studio, l'orario di studio era dalle 10 alle 18, poi c'è chi aveva il trucco. Quando c'era la canzone dovevamo arrivare un'ora prima, registrarla in uno studio, sempre in Rai, in un'altra stanza, dove si registrava la mattina e poi quando andavamo in studio la provavamo con la coreografa, ovviamente con le nostre voci che avevamo registrato la mattina. Certo, quindi tutto in una giornata? In una giornata facevamo, sì, circa un 20 minuti di registrazione. Perché le puntate duravano 10 minuti, 15 minuti. No, le puntate da prima duravano più di 20 minuti. Davvero? Eh sì, le puntate di 10 minuti sono le puntate da quando è arrivato il digitale terrestre, nel 2010, quindi meno soldi, meno durata del programma. Meno base. Infatti io me l'ho filmato. Io me lo ricordavo più lungo, quando poi le ho riguardate le vedevo tutte da 10 minuti. È perché rimandano in onda adesso le repliche, quelle da 10 minuti. Cioè, oddio, adesso rimandano anche quelle da 20 minuti, devo dire la verità. Però le ultime puntate che hanno mandato in onda duravano 10 minuti. Invece una volta duravano anche 25 minuti. Pensate che... Quindi non ero di fuori e da piccina lo guardavo... No, no, no. C'era una bella differenza. Addirittura prima c'erano i cartoni animati all'interno di televisione, che faceva da contenitore. Era proprio... Durava tanto, durava un'oretta. Però il programma, proprio in sé, Melevisione, la sitcom, le puntate duravano sui 25 minuti. E pensate alla differenza rispetto ad oggi, che un programma ti dura al massimo 10 minuti. Esatto. Appunto, non di più. La solita attenzione oggi si è abbassata. Invece una volta guardavate puntate di 25 minuti, magari con temi anche... Insomma, abbastanza di spessore. Esatto. Abbiamo fatto puntate anche abbastanza delicate. Perché andavano sempre a insegnare qualcosa. Io stavo pensando, lo dicevo ieri a Gioele, che la Melevisione è stato il carosello della nostra epoca. Eh, sì, è stata. Dai, voi avete vissuto... Forse siete stati gli ultimi, l'ultima generazione che ha vissuto proprio la TV dei ragazzi, come era intesa con l'appuntamento. Cioè, a quell'orario c'è il programma. E noi dobbiamo aspettare quell'orario per vedere il programma. C'era la particolarità che noi parlavamo al bambino in camera, così, no? Quindi lo guardavi negli occhi. Ehi, ciao amico. Che ti fa sempre un legame differente. Poi c'era il tour teatrale. Quindi noi abbiamo girato i vari teatri italiani. Oltretutto con dei numeri, come vi dicevo prima, molto importanti. Quindi ad avere di fronte 2000 bambini per ogni città dove andavi. Veramente ti rendeva... L'effetto era da rock star, cioè da pop star che arrivava. Ero con Justin Bieber di anni 2000 italiani. Yeah! Però dai è stato... Vabbè, Menevisione sarà... Ovviamente... Per me è una sorta di talismano magico, proprio rimanendo nell'ambito magia. Perché mi ha portato poi fortuna. Io ho sempre creduto nella Menevisione e nel bene che ha fatto. E sono sicuro... Parlando di... Ti ritorna indietro le cose. Ecco, ti ritorna indietro poi il bene che fai, no? Questo vale in generale nella vita, credo. Parlando ecco di essere riusciti in qualche modo a realizzare il proprio sogno, ok? Noi abbiamo avuto più Anastasia, no? Qualche puntata qua. 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 Tu hai fatto Menevisione per un sacco di anni. Hai mai avuto... Sei arrivato ad un punto in cui ti sentivi proprio a casa? Nel senso che ormai conoscevi tutti. Che è passata un po' l'emozione dell'inizio. No, a parte adesso che mi raccontavi di Anastasia la stavo pensando. Perché avete beccato proprio una persona di una sensibilità, professionalità. Che ha pochi... La puoi paragonare a poche nel panorama televisivo. Lei è una persona fantastica. Ci ho lavorato in un programma. Sì. Happy Dance. Ma te non ballavi in quel programma? No, ballavo a lei. Se ballavo io il programma lo cancellavano dopo il primo giorno. Ma tu ballando te l'avano proposto? Davvero? Ballando? Ma c'è stata una mezza idea di ballando. È una delle cose che mi divertirebbe fare. Sì. E quindi insomma Anastasia... Adesso che ne parlavi mi è venuta a mente proprio Anastasia. È una persona con cui ho condiviso dei momenti molto divertenti. E lei è un caterpillar. Cioè ragazzi, lei sul lavoro è pazzesca. È precisa, è pignola, è tosta. Cioè lavorerebbe 25 ore al giorno. Cioè veramente... E poi è simpaticissima. Quindi cioè tu la vedi schizzata, simpaticissima. E nello stesso tempo è una persona iper lavoratrice. Cioè sta sempre sul pezzo. È veramente... Gran persona, Anastasia c'è un ricordo meraviglioso. Infatti vedo l'ora di vederla. Ci si sente sempre per messaggio e poi non ci si vede mai. Beh detto ciò, non mi sono mai stancato di quello che faccio. Anche se un attore ha bisogno di stimoli magari differenti, no? Ha anche voglia di fare altro. E io ho voglia di fare altro, assolutamente. Mai direi il contrario. Però non mi sono mai stancato di fare quello che faccio. Perché comunque è quello che ho sempre sognato fare. Quindi mi diverto. Io trovo sempre il modo di divertirmi. Se un giorno non mi divertirò più di farlo, probabilmente dirò basta. Però io finché sento quell'adrenalina, quell'emozione che ho, quel divertimento che trovo nel fare questo personaggio insieme ai miei colleghi. Ma che può essere anche uno spettacolo di teatro per bambini. Cioè non solo melevisione. Certo. Cioè io continuerò sempre a farlo. Io mi diverto tantissimo in quello che faccio. Ma proprio mi diverto proprio tanto. Mi diverto ma ovviamente con la fatica che ci si mette nel fare questo mestiere. Che non significa andare a spostare pianoforti e fare un lavoro che ti sveglia alle quattro di mattina. Ma è altrettanto faticoso il nostro mestiere. Insomma, come tutti i mestieri, ha le sue cose positive e cose negative. Però io l'ho scelto questo e non saprei fare altro. È che chiunque lavori con l'arte, no? Esatto. Lavori con la parte forse più sensibile del tuo cervello. Capito? Che è la parte quella che ti... Cioè che se stimolata traduce di più e se non stimolata ti fa sentire una merda. Cioè tu letteralmente puoi stare a fare il lavoro dei tuoi sogni, ma se non hai lo stimolo giusto non lo vivi come il lavoro dei tuoi sogni. Sì. È delicatissima quella parte. È anche un concetto particolare perché sì, bisogna avere una sensibilità accentuata, no? Per toccare certe corde. E poi è un mestiere che tu fai... Cioè non devi fare questo mestiere pensando, ok, voglio fare questo mestiere artistico perché voglio andare in televisione, voglio diventare famoso, voglio guadagnare soldi. Purtroppo, cioè questo è un mestiere che si fa con tanti sacrifici. Cioè io dico sempre ai giovani che vogliono fare questo mestiere di mettersi l'anima in pace perché è un lavoro che ci vuole tempo per arrivare ad un certo punto dove tu puoi dire, ok, forse arriva la fine del mese perché veramente non hai nessuna sicurezza. Nessuno ti promette niente, anzi ti faranno di tutto per metterti i bastoni tra le ruote. Quindi questo è un mestiere che fai perché tu senti veramente scorrere nelle vene, cioè senti proprio l'energia che hai dentro e hai bisogno di raccontare, di fare qualcosa per esprimerti perché altrimenti non riesci a tenerlo dentro. Quindi questo mestiere lo fai quando senti che non puoi tenerti dentro quello che hai da dare agli altri. Se non lo fai. Se sta proprio male in quel caso. Cioè io ti dico, io mi capita con il mio lavoro di stare male, proprio fisicamente, di non sentirmi bene. Cioè che io magari tipo se butto una giornata ma capita anche settimane magari senza produrre qualcosa di nuovo. È così. Proprio c'è un malessere fisico, cioè che non sono tutto in quel momento. Senti proprio, sì, è una cosa che hai dentro, è una cosa che senti, cioè come lo fai a raccontare. Che altri programmi hai fatto? Beh ho fatto tanti programmi, a parte questo con Anastasia e Epidance. Poi vabbè adesso faccio un programma, allora considerate che il 90% delle cose che faccio sono per famiglie, per bambini. Poi sono cresciute, adesso sono grandicelli come voi, però è un po' probabilmente la mia faccia adatta a raccontare cose per bambini, per i più piccoli, per le famiglie. Quindi la posta di Yo-Yo che faccio da sei anni con Carolina. Carolina è il volto, diciamo, per bambini più famoso oggi, insomma è proprio la star dei bambini, un po' come Melevisione, 15 anni fa. E siamo anche migliori amici. E poi ho fatto tanti anni la prova del cuoco con Antonella Clerici, quindi magari i genitori, piuttosto che i nonni. E' un programma, è un programma, tuttora Antonella è in onda con un programma che si chiama sempre Mezzogiorno, una specie di prova del cuoco, quindi il Mezzogiorno di Rai 1. Non c'è più Prova del Cuoco? Si chiamava in un altro modo. Perché? Perché lei aveva abbandonato per un paio d'anni, che si era presa una pausa e quando è ritornata hanno cambiato format, leggermente, e l'hanno chiamato, è sempre Mezzogiorno. Da uno studio nuovo, una scenografia nuova e niente, quindi ho fatto… Sì, sempre Cucina, la Cucina è un argomento che in televisione si vede un po' da più. Antonella è stata una delle prime a fare un programma in diretta e quindi l'ho fatto per otto anni, quindi è stato uno dei programmi che… Visto che stiamo parlando della prova del cuoco. Prima ci hai raccontato un'esperienza molto divertente. Sì, sì. Vuoi raccontarla? No, tu intendi quanto ho sostituito Antonella? Sì. Sì, no. Che io non sapevo. Sì, allora, Prova del Cuoco è un programma storico di Rai Uno, del Mezzogiorno, quindi tantissimi telespettatori a quell'ora. È successo che nel 2016, quindi sei anni fa, io non dovevo registrare la puntata, però ero lo stesso a Cinecittà a fare un altro lavoro. Quindi, siccome era un anticipo, decido di andare in studio a salutare Antonella, insomma, i miei colleghi, quelli che lavorano dietro, c'è cento persone. Oh, ciao, sono qua a registrare, guardo un po' la puntata. Quindi mi sono messo lì a guardare la puntata in diretta. E ad un certo punto Antonella non sta bene, povera. Ha una colica biliare in diretta. Quindi le coliche, non so se qualcuno sapete che le avute, sono dolorosissime. E Antonella, in diretta, ha dovuto dire, scusate ai telespettatori, io purtroppo sto male, devo uscire dal programma e continuate voi in scena. C'erano dei cuochi in scena, non dei conduttori, dei presentatori. E quindi Antonella esce dallo studio e durante la diretta di Rai 1, c'era Anna Moroni, la cuoca, stava cucinando, era una sfida di cucina, rimangono senza conduzione. Quindi intanto la trasmissione va avanti senza conduttore, tanto cucinano, ma nel frattempo gli autori devono decidere cosa fare. Che si fa? Mezzogiorno e un quarto? La trasmissione dura un'ora e un quarto ancora? E chi conduce? Uno mi vede lì appoggiato al muro, uno degli autori, il direttore esecutivo, Edmondo, ma che ci fa Branchetti qua? Eh, Branchetti deve fare uno spot oggi. Mettetegli il microfono, buttatelo dentro. Io guardare questa scena per dire, che vogliono da me? Allora, vedo arrivare tutti da me, Vincenzo, microfonista, mettiti il microfono, mentre mi mettono il microfono, vieni qua Lorenzo, mettiti il microfono. E io, che devo fare? No, no, niente, entri in scena, tranquillizzi che Antonella comunque sta bene e mandi la pubblicità. Poi ti spiego tutto, mando la pubblicità, va bene, ok, mi metto il microfono, vai, vai, e mi spingono dentro. Entro in scena, eccoci qua, sì, buongiorno a tutti, allora Antonella, avete visto, è uscita perché ha un po' di dolore, tranquilli, insomma, sta già meglio, però oggi preferisce non continuare. Allora Anna, con Anna Moroni, adesso mandiamo un po' la pubblicità e vediamo che ha vinto la gara, d'accordo? Vai, pubblicità. Io fingevo, clamorosamente tranquillità, invece stavo morendo dentro, pubblicità, nero, ovviamente, in quei tre minuti di pubblicità, arriva l'autore, mi prende, mi dice Lorenzo, adesso ti spiego quello che devi fare nella prossima ora, in diretta. Ok, e mi spiega, allora dopo c'è il pizzaiolo, c'è il sorbillo, poi abbiamo l'ospite, l'aureli, poi abbiamo quello, poi abbiamo... Sì, ok, va bene, ok, ok, va bene, va bene, ma ci siamo noi, a qualsiasi cosa ti diciamo le cose, d'accordo, non ti preoccupare, sì, te stesso, ok, sì. Fabrizio l'autore. Finisce la pubblicità, sta a me, era mezzogiorno e venti e arrivo alle tredici e venti, conducendo il programma in diretta, improvvisamente, quindi trovarsi al momento giusto, nel posto giusto. Io mi sono fatto quella puntata così e alla fine di quella puntata sono rimasto a condurre il programma per tutta la settimana, perché poverina Antonella è stata male per una settimana. È rientrata il lunedì successivo, era martedì, quindi... È stata operata? No, no, non è stata operata, però insomma... No, le coliche... No, non è stata operata, semplicemente, mi ricordo, l'hanno fatto forse la cure che c'è da fare, però insomma, e ogni giorno mi sentivo con Antonella, io mi sono messo al servizio del programma per una settimana ed è andata molto bene. C'è stato un ottimo successo di ascolti, di pubblico, e tutti, ah, i giornali, ma dove è uscito questo ragazzo? Dove è uscito? Vengo da 12 anni di TV dei ragazzi, cioè, non è che, insomma, sono appena uscito. La TV dei ragazzi è un'ottima scuola, un'ottima palestra, quindi sono riuscito a mantenere il controllo, ho gestito le emozioni, che è normale, evidente, che uno ha in una situazione del genere, e per una settimana ho condotto questo programma, per me è stato un provino al grande pubblico, molto importante, perché comunque ne sono uscito bene, poi, dopo non ho fatto altro, però non è colpa mia, io quello che potevo fare l'ho fatto, lo dico sempre. È stata una bellissima esperienza, ecco, è stata fighissima, cioè trovarsi il posto giusto nel momento giusto, e quindi, per questo dico sempre, dobbiamo studiare, non perché subito ti deve arrivare qualcosa, ma perché ti può arrivare, da un momento all'altro, un'occasione che tu devi saper cogliere e saperla gestire bene, perché sei preparato. Quindi è importante essere preparati, perché da un momento all'altro ti può arrivare un'occasione. A me è successo così, è arrivata un'occasione e probabilmente ero preparato per poterla sfruttare nel migliore dei modi. Il grado di questa osservazione qua, che sicuramente, cioè, è il tuo vissuto, quindi, cioè, sicuramente. Però dico, ecco, per quanto riguarda invece gli autori, ok? Sì. Metti che stanno cercando un personaggio, magari effettivamente, ma proprio cattivo, cattivo fatto a cattivo, ok? Magari, ok, e ti prendi tu al casting, pensi che, magari, tipo, potrebbero essere prevenuti i pericoli che hai fatto prima? Ah, dici in questo senso. Eh, allora, qui si entra veramente in dei discorsi. Sì, è vero che, purtroppo, in Italia spesso, sì, ragionano così. Cioè, ah, no, tu sei televisivo e non puoi far cinema. E quindi dici, ma perché? Perché un volto che è molto riconoscibile in televisione, perché da 18 anni fai tv o di un certo tipo, allora non puoi far cinema. Ma questo, purtroppo, sì, è una cosa che a me è capitata. A me è capitata e me ne sono anche dispiaciuto, perché, boh, rimango sempre con un grande punto di domanda. Dico, ma scusa, ma io faccio l'attore? Cioè, non posso fare un programma televisivo per 15 anni per poi fare qualcosa al cinema? Qual è il problema? Eh, però, sì, perché, anzi, talvolta mi è stato suggerito, leva dal curriculum che hai fatto televisione. Ho fatto quello. Come se avessi fatto poco, nel senso. Però, purtroppo, guarda, credimi, ci sono dei passaggi così delicati che, io ancora oggi, dopo 20 anni faccio questo mestiere e non riesco a comprendere. È un mio limite, è un mio limite, perché io non sto criticando. Probabilmente funziona così. Perché, però, non sempre così, perché ci sono personaggi televisivi, magari molto importanti, che fanno anche fiction, no? Quindi perché non lo posso fare anch'io? Perché la gente mi riconosce come personaggio televisivo e allora non vado bene nelle fiction e nel cinema. Ma no, lo trovo così complicato da capire perché non lo posso fare. Però funziona così. C'è stata una puntata della televisione, noi non eravamo ancora nati, preventiamo questo. E tu ancora non la facevi. E tu ancora non la facevi, però, parliamo qui. Vabbè, tanto le conosco anche... Certo. Dove la Melevisione è stata interrotta... Interrotta dalle torri. Quella, è chiaro, è una delle... Quante volte te l'hanno chiesto? Beh, ma, allora, Melevisione ha due o tre domande che credo che chiunque faccia da sempre. Insomma, una di queste, o perlomeno domande, aneddoti legati a... Poi con i social, con le immagini, insomma... Certo. Il crollo delle torri gemelle che ha interrotto qualsiasi cosa andasse in onda in televisione, ha combaciato con la messa in onda di Melevisione. E la giornalista, interrompiamo il programma, la Melevisione, per un attacco... Insomma, poi, insomma, la storia la conosciamo. Però, insomma, sì, questa è... Sì, è rimasta nella memoria di tanti bambini, insomma, l'interruzione del... Un trauma. Un trauma. Come... E come l'hai vissuta? Che l'hai vissuta? Ah, l'ho vissuta... Io ero un ventenne. Ok. E io guardavo NTV. Ah. All'epoca, sì, guardavamo NTV, insomma, ai ventenni, c'erano i video musicali, insomma... Sì, sì, sì. E guardavo NTV e mi ricordo che interruppero la trasmissione, che guardavano, ricordo nello specifico quale, magari erano solo dei video, e mi ricordo che non capì subito, pensate ai bambini ancora di più, ma anch'io a vent'anni non riuscì a capire quello che stava succedendo. Fatto sai che mi ricordo che chiamai il mio babbo, che stava lavorando, aveva un laboratorio video, e gli dissi, babbo, ma che sta succedendo? Lui mi disse, è la fine del mondo, è la fine del mondo, Lorenzo. Era disperato anche lui, e insomma, a breve poi stavamo tutti quanti, insomma, incominciando a capire che era veramente una pagina triste per il mondo. Di due torri piene di persone che crollano in quel modo, una scena mai vista e immaginata, simbolo di New York, le torri gemelle, cioè, voi ovviamente non l'avete vissute, ma in qualsiasi film hollywoodiano c'erano le torri gemelle, e vederle in diretta, sgretolare in quel modo, con dentro le persone, forse veramente anche a livello di simbologia hanno scelto proprio il modo più forte, non lo so. Stiamo entrando veramente in discorsi. Forse è meglio uscirne. No, no, certo, certo, però, cioè, si sta parlando di discorsi che possono venire fuori, e obiettivamente... Certo. Caspita. Ecco, e i bambini che guardavano la televisione, tornando, insomma, per leggere un po', è ovvio si ricordano il fatto che era stata interrotta la televisione, e con i social, ovviamente la notizia diventa virale ogni anno, si parla di questo fatto qua. Anche la canzone dei pinguini tattici nucleari lo dicono, certo. Sì, 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 scrivi ancora, caspita, no, beh, poi mi ricordo che c'eravamo scambiati un messaggio, sì, sì, con loro, che sono fantastici. Sì, loro sono bravi, mi piacciono. Scrivi le scemo, scrivi le scemo, un finale migliore di quella canzone della... Quella puntata della televisione, interrotta da torri che andarono in fiamme, e bimbi che facevano domande, quella lì, ma non parlare a memoria perché mi taggano spesso con questa canzone, e beh, sì, ho dato... Ok, con queste buonissime premesse, ne ringraziamo tantissimo per aver visto il primo episodio di quest'anno, fondamentalmente. Buon 2023! Buon 2023, spero di portarvi fortuna da buon folletto. Sì! Assolutamente, ringraziamo tantissimo Lorenzo. No, grazie a voi, grazie a voi, siete giovani, bravi, credete nei vostri sogni sempre. Ti posso chiedere di fare una cosa? Sì. Te alla fine di ogni puntata facevi vedere il sito, mi puoi dire la frase che dicevi alla fine di ogni puntata? Vabbè, sì, era il saluto finale. Sì! Beh, ciao amici, ci vediamo domani, vi aspetto. A presto! Grazie mille!